Ciao cari amici da Roblox.it, un saluto da Andrei Lassil Bulgaro, eccoci qui con il Motorola Razr, terminale che grazie ad Euronics Italia posso testare in questi giorni. Con questo primo focus volevo andare a mostrarvi e quindi a conoscere un po' meglio questo terminale americano per quanto riguarda la sua struttura hardware e le sue specifiche. Partiamo dalle sue misure, infatti come potete vedere dalla visuale frontale è molto generoso come terminale, infatti misura 130,7 mm di lunghezza e 68,9 mm di larghezza per uno spessore veramente veramente contenuto di 7,1 mm nella parte più sottile, invece di circa 1,1 cm nella parte superiore dove sono contenute fotocamera e flash altoparlanti. La parte frontale è coperta interamente dal vetro Gorilla Glass ad alta resistenza sia a urti e graffi. Il display è un display super AMOLED, quindi con tutte le varie caratteristiche di colori e contrasti che ben conosciamo e che andremo a rivedere meglio nei prossimi focus, con risoluzione 540x960 pixel, quindi QHD. Il display misura una diagonale di 4,3 mm, quindi per queste dimensioni con questa risoluzione in pixel è un display che vanta ben 256 pixel per pollici, quindi una densità di pixel veramente elevata. Continuando a parlare di numeri vediamo anche il suo peso con batteria inserita. Il suo peso è, come viene dichiarato anche nelle specifiche ufficiali, confermato per 127 grammi, non può essere misurato senza batteria in quanto questo terminale non propone un vano batteria apribile, infatti è un blocco unico e l'unica zona in cui si può interagire con le parti interne è questo sportellino qua che permette di inserire e togliere la microSD e la micro sim in quanto questo terminale non utilizza le sim normali ma utilizza le micro sim come per esempio su iPhone 4. Però continuando ad osservare la struttura troviamo nella parte frontale qui è in alto un led di notifica affiancato ai soliti sensori di promissimità e luminosità, qui l'altoparlante di chiamata appena sotto la scritta Motorola e una fotocamera da 2 megapixel. Nella parte bassa troviamo il microfono per la chiamata e i quattro soliti tasti soft touch di Android, menu home, back e cerca. Nella parte inferiore è totalmente pulita, non troviamo niente. Nella parte laterale destra troviamo il tasto di accensione, spegnimento, blocco e sblocco del display in alluminio e il bilanciere del volume. Nella parte superiore troviamo un jack da 3,5 per gli auricolari e il microfono, l'entrata micro USB per trasferimento dati e ricarica del terminale e anche un'uscita micro HDMI per poter sfruttare anche il mirroring su televisori ad alta risoluzione. La parte superiore è gommata e abbastanza piacevole al tatto. Nella parte laterale destra non troviamo niente se non lo sportellino che abbiamo già visto per accedere a micro SIM e micro SD. Passiamo invece adesso al parte posteriore che è una caratteristica molto importante di questo terminale in quanto la parte posteriore, fatta eccezione per questa piccola striscia in alto, è tutta in Kevlar. Quindi materiale veramente resistente, il Kevlar come ben sapete viene utilizzato per per esempio giubbotte antiproiettili e oppure per i rivestimenti dei copertoni antiforatura. Quindi oltre alla grande resistenza ha anche una caratteristica molto importante che non si riga. Qua ci possiamo metterci a grattarci con le chiavi con le unghie che non rimane alcun segno. Quindi veramente qualcosa di molto molto importante per per questo terminale per mantenere la sua integrità in ogni momento di utilizzo. Qua nella parte superiore invece troviamo una fotocamera da 8 megapixel con autofocus e affiancato il flash led cam che registra in full hd quindi a 1080 pixel e qua a fianco troviamo l'altoparlante di sistema. Qua in basso invece troviamo un secondo microfono per la risoluzione degli audio durante i video e molto probabilmente anche per la rimozione per esempio del rumore durante le chiamate. Ultime due parole per quanto riguarda la struttura che è quella interna, al suo interno troviamo un processore da 1.2 GHz, Texas Instruments, OMAP4, 1 GB di RAM e bene 8 GB per la memorizzazione di dati interne. La batteria è da 1780 mAh e come già detto è una batteria integrata e che non può essere sostituita se non mandando il terminale in assistenza. Direi che per quanto riguarda la struttura e le sue specifiche mi sono dilungato fin troppo quindi vi saluto e vi rimando a quello che sarà il prossimo focus su questo fantastico Motorola Razr. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!